Sono l'insegnante d'arte e sto lavorando a Roma, che volevo dire, innanzitutto volevo ringraziarvi perché nella mese dei miei figli mangiano biologico e poi volevo dire una cosa, non ho capito bene, quando bisogna consegnare questo lavoro, le scuole quando bisogna consegnare questo lavoro? Il kit arriverà in queste prossime settimane, i lavorati vengono fatti durante l'anno scolastico, vengono caricati a maggio sul sito, quindi ci sono gli upload di tutti i lavori lavorati, poi entro fine maggio viene fatta questa selezione, questa premiazione ai primi giugno dei vincitori, della classe vincitrice, noi non premiamo i singoli perché avranno tempo poi per fare competizione, noi cerchiamo ancora di lavorare sul lavoro di gruppo, quindi saranno premiate le scuole, classi vincitrici e quindi i premi legati al tema del biologico.